La classe politica responsabile negli ultimi vent'anni dello sfacelo della sanità pubblica è entrata in gabbatesa sulla nomina del direttore generale Rinaldo Tordera. Ha imposto senza averne titolo un manager bravo ma senza competenze in materia sanitaria, fregandosene dell'elenco degli doni e attingendo addirittura dall'elenco della Lombardia, arrivando anche ad offendere i medici aquilani bollandoli come una lobby. Va giù duro, molto duro, Alessandro Grimaldi, segretario del sindacato dei medici ANAO dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nel corso di una conferenza stampa convocata dai sindacati Cisle e Will con l'intento di fare un'operazione verità non solo sulla nomina di Tordera direttore generale dell'Asla Vezzano sul Monal Aquila, ma anche sul piano di riordino della sanità imposto dal decreto Lorenzin, che in Abruzzo già solleva allevate di scudi per i tanti tagli e accorpamenti previsti. E proprio sul piano di riordino arriva la seconda bordata di Grimaldi. I parlamentari abruzzese, affermato, conoscevano da più di un anno gli effetti della riforma sulla sanità abruzzese. Non possono ora cadere dalle nuvole e urlare allo scandalo. La battaglia la dovevano fare a tempo debito in Parlamento. Il riferimento è anche la senatrice Stefania Pezzopane, che ha tenuto a pochi giorni fa una conferenza stampa a difesa dei reparti che rischiano di chiudere del San Salvatore. Tira infine alle somme Gianfranco Giorgi, responsabile sanità della Cisle. La riforma Lorenzina ha spiegato che non può essere applicata in modo indolore ad una regione come l'Abruzzo, che ha solo 1,3 milioni di abitanti distribuiti in un ampio territorio, perché inevitabilmente si sguarniscono le aree interne. E infine snocciola l'elenco delle priorità da affrontare al neo-manager Tordera. Ma noi chiederemo molto, insomma, perché c'è molto da fare. Per esempio la pianta organica deve essere rivista, il completamento dell'ospedale, che ancora non bisogna ricostruire il delta medico, bisogna fare in modo che scompaiono i container dall'interno dell'ospedale, da Collemaggio. Quindi ci sono tante cose da fare. Bisogna fare in modo che non ci sia precarietà all'interno dell'Alz.